Che hit ci sono raga nella nostra nuova promo Ratti for Summer Eh si ragazzi c'è anche Fiat 500X Questi sono gli interni ragazzi la 500X è veramente spaziosa e molto comoda Ragazzi Fiat 500X è pronta per diventare la hit definitiva dell'estate 2019 Questa è la versione 1.16 cilindrata, 120 cavalli, motore diesel, cambio manuale, chilometro zero È veramente veramente una bomba, l'adoro, mi piacciono davvero molto i sedili in pelle con il ricamo 500 Poi vabbè io vado matto per i colori tipo il grigio, il nero, il bianco sulle auto È veramente una cosa che mi manda fuori di testa Fa parte della promo Ratti for Summer Quindi se decidete di acquistare quest'auto con uno dei nostri finanziamenti Potete decidere di iniziare a pagare tra 90 giorni Veramente l'estate più lunga di sempre Sono da Ratti Auto A presto Ciao